Sei molto dolce. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto molto. Abbiamo un rapporto fantastico. Invece i miei non mi considerano proprio. Tra non molto avrei l'onore di vedere il maestro all'opera. Che cosa ha detto? Niente. Ti va di andare a fare una passeggiata? E Gerald, come va? Ci sarai alla partita sabato? Naturalmente. Ci vediamo lì, amico. Riguardati, eh. Lo conosci? Sì, sì. In effetti io. È fortissimo, un ragazzo in gamba. Qua io, un straordinario giocatore di polvo. Sì. 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 Ok, cos'hai? Stavo pensando a David. Che c'è? È normale sentire la mancanza del sesso. Non c'è niente di male in questo. È vero, mi manca il sesso. Ma non è questo il punto. A me manca soprattutto David. Noi ci conosciamo dai tempi dell'asilo. Che cosa romantica. I cubi, le costruzioni, il latte e biscotti. Sai cosa voglio dire. Da come parli tu? Sembrate più fratello e sorella. Sì, ma la verità è che ci vogliamo molto bene. Lo so.